cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo prosegue la settimana all'insegna del forte maltempo il mese di febbraio si chiude con condizioni ancora instabili vediamo il dettaglio di giovedì sul veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni al mattino sparse o assenti ma nel corso del pomeriggio via via più diffuse anche moderate in serata neve dai 1900 metri sulle prealpi dai 1500 metri sulle dolomiti e il rischio di valanghe sarà marcato sull'arco alpino grado 3 della scala temperature stazionarie minime tra 7 e 10 gradi massime tra 13 e 16 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia avremo maggiori spazi di sereno specie in mattinata più nubi però con il passare delle ore e dalla serata probabili deboli precipitazioni temperature minime sui 6 10 gradi massime intorno ai 15 17 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige avremo parziali schiarite alternate ad annuvolamenti e poi in serata le prime piogge temperature minime tra 9 e 10 gradi massime sui 14 17 gradi dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori grazie per l'attenzione